L'assessore alle politiche sociali Luciano Frizziero si è dimesso dall'incarico attraverso una comunicazione protocollata stamane e diretta al sindaco Alessandro Ferro che l'aveva voluto in giunta per ricoprire l'importante incarico dopo essere stato amministratore della casa di riposo di Sottomarina. Frizziero parla di sopraggiunta incompatibilità ambientale con il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che ne aveva praticamente votato la sfiducia in un ordine del giorno promosso dalle opposizioni e cita il povero George Floyd, l'afroamericano ucciso da un poliziotto che gli aveva puntato per otto minuti il ginocchio e la gola. I can't breathe, non posso respirare, sono le parole di Frizziero che la dicono lunga dello stato delle cose in casa 5 Stelle e dell'assedio a cui è sottoposto lo stesso sindaco Ferro, ringraziato dall'assessore uscente per la fiducia e la stima che ha avuto nei miei confronti, reiterate in ogni occasione. Frizziero aveva sostituito Patrizia Trapella, a sua volta di messa si dà l'incarico e poi approdata a Fratelli d'Italia. Il primo cittadino esprime dispiacere per le dimissioni. L'assessore Luciano Frizziero è stato un valido collaboratore, qualificato e competente, che si è messo a servizio dell'ente e dei cittadini. Lo ringrazio per aver lavorato con impegno in maniera assidua, soprattutto durante questa emergenza da coronavirus, seguendo tutti i giorni le riunioni convocate dall'Ulstre Serenissima e gestendo con risolutezza ed efficienza i bonus spesa legati alle iniziative di solidarietà alimentare. Rispetto alla sua decisione prendo atto delle dimissioni, rinnovando la mia stima nei suoi confronti. Le dereche in cappa a Fratelli saranno mantenute ad Inter in dallo stesso Ferro. Intanto il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle risponde in modo secco e sprezzante al capogruppo del PD, Jonathan Montanariello, quanto all'ipotesi di sfiduciare il sindaco raccogliendo le firme dei consiglieri. A Chioggia il Movimento mai condividerà percorsi politici in entanto col PD, scrive il capogruppo Paolo Bonfa. Le voci di incontri riservati? Forse sono gli effetti del lockdown a far pensare a Montanariello che incontri di questo tipo siano anche soli immaginabili. Se ha raccolto firme può farne un poster da tenere nella propria sede. Nel tardo pomeriggio di lunedì 1 giugno i carabinieri della stazione di Chioggia Sottomarina, impegnati nel controllo del territorio col supporto del IV Battaglione Veneto, hanno arrestato due conviventi di 37 anni lui e 36 lei in flagranza di reato per tentato furto aggravato. I due, cittadini italiani di etnia Sinti e residenti nei Piovese, venivano bloccati dai militari del parco commerciale Clodì, mentre lo vistavano all'interno di un'autovettura lasciata in sosta con i finestrini non completamente serrati. Per fortuna dall'automobile non è stato asportato niente. Una volta arrestati, i due nomadi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Chioggia in attesa del giudizio direttissimo, tenuto sistemare al Tribunale di Venezia, che ha convalidato le ammisure a precautelare applicando a entrambi il divieto di dimora nella provincia di Venezia. Attorno alle ore 21.30 di ieri sera, in via San Marco Sottomarina, poco dopo il bivio da Viale Venezia, una Volkswagen Polo nera, guidata da un ventenne neopatentato di Sottomarina, che correva a velocità assai sostenuta, ha impattato frontalmente contro un furgoncino parcheggiato da un negoziante residente nella zona, a quanto pare in zona vietata, dopo una lunga frenata. Il furgone, dopo l'impatto e retrocesso di almeno 5 metri, il boato ha colto l'attenzione dei residenti e passanti. In loco i carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, ma non vi sono feriti tra gli occupanti della Polo. I rievi alcolemici cui è stato sottoposto il giovane, segnalano verbale rispettivamente 074 e 063, quanto basta per il ritiro temporaneo della patente, anche se il procedimento sarà solo amministrativo e non penale. Il ventenne era intervenuto nei commenti della notizia, riportata in diretta dalla pagina Facebook di Chiorgia Azzurra, per rispondere a chi lo accusava di aver esagerato via più con l'alcol. Poi i commenti sono stati rimossi e lo stesso ragazzo si scusa per la sua reazione immediata, anche verso chi lo stava riprendendo con il telefono. Tuttavia una polo nera era stata vista sfrecciare a gran velocità nella zona, sia in piazza Todaro che in via Rizzonzo, sul lungomare e in altre zone di sottomarina, nelle ore e nei minuti immediatamente precedenti l'urto. Nella mattinata odierna il comandante della Capitaneria di Porto di Chiorgia, capitano di Fregata Michele Messina, ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare per l'estate 2020, che è stata pubblicata nel sito istituzionale della Capitaneria ed entra in vigore da oggi. Il provvedimento disciplina gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, degli utenti del mare in genere, nonché i limiti di navigazione rispetto alla costa lungo tutto il litorale del circondario marittimo di Chiorgia. L'esigenza di rivedere le norme vigenti è rappresentata dalla necessità di uniformare gli standard di salvaguardia della balneazione in tutto il compartimento marittimo e trova origine nel confronto con i comuni rivieraschi e rappresentanti degli operatori balneari a seguito di opportuni incontri. Tra le novità, l'estensione dell'area riservata alla balneazione a 300 metri dalla costa e il limite di acque sicure a un metro di profondità. Al mercato ortofrutticolo di Brondolo si chiude un'era, ma non del tutto. Pietro Cigna, direttore della struttura, raggiunge finalmente la meritata quiescenza dopo 42 anni di ininterrotto lavoro, iniziato nel 1978. Il 31 maggio si è conclusa la sua collaborazione con la società Chiorgia Ortomercato del Veneto, dopo essere stato a servizio delle altre realtà che si erano vicendate nella gestione, quali Apos e Cogemo. In tutto questo periodo, racconta Signa, Chiorgia Azzurra, ho vissuto lo sviluppo del radicchio di Chiorgia fino a diventare IGP. Sono cambiate tante cose da quando c'erano le colonne di mezzi per il conferimento fuori dal mercato e fino alla Romea. Anzi, sono stato io tra i primi atti a rimuovere la ricicolazione dei veicoli interni al mercato, così come ho eliminato lo scarico a mano del prodotto che oggi avviene attraverso i muletti. Radicchio significa anche promozione. Non è mai mancata questa volontà, spiega l'ormai ex direttore. Se il Principe Rosso è diventato quello che è diventato, è stato perché qualcuno ha creduto nella necessità di promuoverlo. Ricordo con piacere la prima spedizione aerea di radicchio verso gli Stati Uniti. Lascio una struttura, conclude Cigna, che ha superato un brutto momento e ora ha prospettive, come ad esempio la collaborazione con il mercato all'ingrosso di Padova. Quanto a me, sono ancora attivo e qualcosa ho già in mente di fare, ma non è facile smettere e chiudere la porta, specie se il mercato ha ancora bisogno della mia esperienza. L'articolo completo è nel blog Chioggia Azzurra. Questa sera fino a venerdì 5 giugno, tutti i bacini idrografici del Veneto sono stati sottoposti allo stato di attenzione da parte della protezione civile regionale. In virtù della situazione meteorologica che andrà peggiorando. In particolare l'instabilità inizia nella giornata odierna con rovesci e temporali sparsi, in parziale estensione della pianura centro-settentrionale. Non sono esclusi i locali fenomeni intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Tra giovedì e venerdì il tempo si manterrà instabile e perturbato, con precipitazioni estese e frequenti, più consistenti sulle zone centro-settentrionali della regione. I fenomeni saranno spesso a carattere di rovescio e temporale, irregolare nella discontinuità anche il pomeriggio di venerdì, fino alle attenuazioni in serata. A Venezia centro-storico la marea segnerà un picco di 124 cm alle ore 22.50 di domani sera, mandando sott'acqua una buona parte delle insule, mentre a Chioggia l'indicatore alle 22.20 di giovedì segna 116 cm sul livello medio del mare. Stanti così le cose, il baby mose dovrebbe essere sufficiente a proteggere la città se non vi saranno impennate. Dopo tante settimane di notizie pessime e in escalation, il 2 giugno, coinciso con la festa della Repubblica, è stato il miglior giorno per il Veneto dalla fine di febbraio. Per la prima volta infatti, in quasi 100 giorni, non si sono registrate vittime da coronavirus, mentre anche i nuovi contagiati diminuiscono sensibilmente. Un altro indicatore assai rilevante è che all'ospedale di Doleo, Covid Hospital, durante i livelli più acuti dell'emergenza, da ieri nessuno è in terapia intensiva per aver contratto il virus. Non accadeva da metà marzo, quando il reparto era arrivato ad avere anche 20 pazienti di Covid-19 collegati ai tubi per la respirazione. Al momento a Doleo, tre persone sono ricoverate nell'animazione, ma senza polmonite da coronavirus.